Scrivete, se avevi bisogno di qualcosa, fassemi sapere. Il 1978 fu un anno eccezionale. La nostra vita cambiò radicalmente. Dai, non c'è solo questione d'abitudine. Tu non riesci neanche a immaginare quello che vedo io ogni giorno. Biglietti per il cinema. Quelle sporcherie esposte così davanti a tutti. Ma tu le donne non le sogni mai. Tutto il resto passò in secondo piano. Madonna che occhi. Non mancia più. Guarda, 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 che occhi sbattuti. So io che il problema c'ha detto. Più cercavo di non pensarci, più lei mi chiamava. Fai in modo che possa incontrermi lì. Tu sei innamorata? Sì, ma lui non mi vede. Come se fossi invisibile. Se uno pensa tanto a una persona, in una qualche maniera, questo pensiero può arrivare all'altra anche se lontana. C'è un'altra persona. Sì, ma lui non mi vede. Ce convey a un'altra persona che ho diceva.